Ciao bimbi, ciao bimbe! Oggi vi presento un bellissimo albo illustrato che si intitola Io e il mio vasino. È adatto a tutti i bambini e alle bambine che stanno cominciando a usare il vasino e infatti il protagonista di questo bellissimo libro scritto da Jean Achbet, spero di averlo pronunciato bene e pubblicato da Lapis Edizioni, presenta proprio come protagonista un bel bambino. Ma non solo. Chi è che va sul vasino? Un po' di gente, sì, vediamo un po'. Chi va sul vasino? Il coniglio? No. Il cane? Beh, certo che no. La pecora? Beh, no. La mucca? Muuu, no. L'elefante? Ma no. Ma insomma, bambini, chi è che ci deve andare su questo vasino? Qualche bell'animaletto, grande, grosso, piccolino? No, secondo me ci deve andare proprio un bambino. Infatti dopo un po', sfogliando le pagine, vediamo questo bel bambino che trova finalmente il suo bel vasino. E quindi cosa dice? Chi comincia? Io! avevi sete, eh? Anche tu avevi sete, coniglietto. Oh, oh, pipì! Presto! Ah! Psss! Hai fatto? No, non mi viene. Insomma, cercare di usare un vasino non è una cosa semplice all'inizio, ma sicuramente ci riuscirete anche voi e questo libro vi aiuterà, ne sono sicura. Io e il mio vasino di Jeanne Ashbe. Lapis Edizioni.